chi potrebbe finanziare un attacco bitcoin bitcoin ad ottobre 2018 nel momento della stesura di questo capitolo è un asset da 113 miliardi di dollari con quasi 4,5 miliardi di dollari di scambi in tutto il mondo in un solo giorno un'organizzazione potrebbe tentare di recuperare parte degli investimenti shortando ovvero scommettendo contro bitcoin al momento giusto poiché inevitabilmente perderebbe molto del valore durante le prime settimane di un attacco alcune grandi banche hanno un capitalizzazione di mercato abbastanza eterogene ovvero JP Morgan Chase per esempio a 390 miliardi Mitsubishi UFJ 86 miliardi e HSBC 175 miliardi in dollari parlando assieme potrebbero essere in grado di raccogliere abbastanza denaro per finanziare un attacco bitcoin anche se bruciare 3 miliardi sarebbe comunque dura da inghiottire e difficilmente giustificabile verso gli azionisti tuttavia se un governo o un insieme di governi decidessero di abbattere bitcoin sarebbe relativamente facile richiedere i fondi direttamente dai contribuenti l'importo totale necessario sarebbe probabilmente paragonabile a un poco più di un centesimo del budget annuale della difesa degli stati uniti